Il benessere della mente è frutto del benessere del corpo. Palestra Total Fitness, sala pesi e bodybuilding, programmi personalizzati per il dimagrimento e la tonificazione, corsi di karate, aerobica, total pump, aerobica combat e molti altri. Visite mediche specialistiche di ortopedia e traumatologia, medicina legale, riabilitazione motoria e riabilitazione strumentale, anche con tecar terapia, ginnastica posturale e correttiva, aperto tutti i giorni, tutto l'anno. Per te, Palestra Total Fitness, del dottor Natale Condemi, Corso Umberto I, Bova Marina, telefono 346 87 94 053.